Non è un caso che la Santa Sede abbia scelto di presentare il suo padiglione alla Biennale d'Arte di Venezia in un luogo apparentemente inaspettato, come lo può essere il carcere femminile dell'Isola della Giudeca. E non è certo un caso che il titolo del padiglione, con i miei occhi, voglia focalizzare la nostra attenzione sull'importanza di come costruiamo insieme il sguardo sociale, culturale e spirituale di cui siamo tutti responsabili. Viviamo in un'epoca marcata dal predominio del digitale. La contemporaneità preferisce metaforizzare lo sguardo, invece vedere con i propri occhi conferisce alla visione un statuto unico perché ci coinvolge direttamente nella realtà e ci rende non spettatori ma testimoni. L'anno in cui la Biennale d'Arte celebra il suo sessantesimo anniversario segna anche i sessant'anni dalla prima esibizione del film Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini. Basta ricordare il capitolo venticinque del Vangelo di Matteo. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Questo è uno dei testi biblici più commentati da Papa Francesco. E che possiamo certamente associare alle linee portanti del suo pontificato. Papa Francesco afferma Le opere di misericordia non sono temi teorici, ma sono testimonianze concrete. Obbligano a rimboccarsi le maniche per alleviare la sofferenza. A noi dunque è richiesto di rimanere vigili come sentinele, riacquistare la capacità di guardare la realtà. Come punto di partenza per ridisegnarla, coreografando nuove possibilità. Questo ha sottolineato Papa Francesco agli artisti quando li ha ricevuti nello storico incontro dello scorso giugno nella Cappella Sistina. Disse allora il Santo Padre, voi artisti avete la capacità di sognare nuove visioni del mondo. Siete un po' come i profetti. Sapete guardare le cose sia in profondità sia in lontananza, come sentinele che stringono gli occhi per scrutare l'orizzonte. Per questo abbiamo dato al padiglione della Santa Sede il titolo Con i miei occhi.